Sono davanti al Battistero di San Giovanni a Firenze. Sapete perché i Battisteri hanno spesso la forma ottagonale come questo? È un richiamo simbolico alla resurrezione di Cristo. Dopo i sette giorni della settimana, l'ottavo è il giorno eterno. Annuncia l'eternità richiamando anche nella forma l'infinito. È inoltre l'incontro del cerchio, lo spirito, con il quadrato, la materia. Infatti, quattro sono i punti cardinali, quattro gli elementi, quattro le stagioni che rimandano alla materia, mentre il cerchio, come il moto circolare, ritorna sempre su se stesso, a differenza del moto rettilineo. Per questo, alcuni Battisteri hanno anche la forma circolare, come ad esempio quello di Pisa. Più raramente hanno forma quadrata o esagonale. Esistono anche costruzioni legate ai frattali, come Castel del Monte. Un frattale è un oggetto geometrico dotato di un'omotetia interna. Si ripete nella sua forma allo stesso modo, su scale diverse, e dunque, ingrandendo in qualunque sua parte, si ottiene una figura simile all'originale. Frattali si ritrovano anche in meravigliose forme naturali.